La parzelletta di Geppo Siamo in questo periodo, via Tuscolana Due cani d'andaggi camminano uno accanto all'altro Mentre camminano fra i negozi e fra la gente Vedono un enorme albero di Natale tutto illuminato Uno dei due cani guarda quell'altro e fa Oh, finalmente va! Quell'altro fa, che ha fatto? Hanno messo le luci al bagno La sveglia dei gladiatori di dimensione